vogliamo iniziare subito 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 con il piede giusto io sto leggendo la recensione con la quale sono d'accordo allora vabbè dobbiamo 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 e andiamo e allora andiamo quindi è arrivato quel momento Flavia guarda tutti gli horror e poi se ne pente spero di non fare errori come mi succede ogni tanto come è successo per esempio con i film con il film che ho recensito recentemente capita i vivi si no sbagliato l'ambientazione e poi vabbè inghilterra e america sono un po' diverse ma comunque va bene poi cipollino 42 su youtube dice però hai sbagliato venerdì con martedì allora cercherò di non dare troppi dettagli così forse non sbaglio allora di cosa stiamo parlando è arrivata questo invito a un'anteprima leggo all'anteprima l'esorcismo ultimo atto foto di coperti foto della locandina un primo piano di l'assel crow e io penso nella mia testa a figo stanno continuando perdonami ti interrompo già subito se tu vedi rassel crow no penso a figo perché in realtà l'esperimento precedente che era vai vai l'esorcista del papa sì che l'abbiamo detto molte volte è diciamo grottesco e quasi ironico e per questo un esperimento di un certo livello che mi era anche piaciuto e quindi visto che lasciava il finale molto aperto ho detto vai hanno subito fatto il sequel andiamo avanti a seguire la saga dell'esorcista del papa ma sono passati 14 giorni da quando è uscito e invece no è un film che non c'entra niente con il precedente di l'assel crow in cui l'assel crow faceva l'esorcista però è sempre un film sugli esorcismi con rassel crow allora io prendo gli mdb lui avrà pensato c'ho già il costume a questo punto resto lì e mi e mi tengo sulla strada ma questo mi entra anche la quindi va bene così io vedo dai mdb perdonami se ti interrompo ma questa cosa credo ti potrebbe esaltare rassel crow è accreditato come father gabriele amort dentro restaurant mania 39 come restaurant mania così non lo voglio sapere non allora dall'esorcista del papa 2023 ci sono stati uno due tre quattro prodotti di cui una un'apparizione come voce in una serie animata ma quattro lavori di rassel crow io sono contenta che rassel crow lavori figurati non mi sta neanche antipatico anzi forse mi sta anche simpatico perché tra l'altro credo che sia uno di quegli attori che hanno avuto un po questa parabola di disagio e anche diciamo fisiologico no nel senso che è stato male da lui ha avuto delle grosse dipendenze credo sia da alcol che da droghe dopo diciamo che c'è stato il momento gladiatore in cui sembrava che fosse l'attore più importante del mondo il più amato il più bello poi a un certo punto è stato dimenticato invece ogni tanto poi insomma ha un po ripreso la sua strada e io sono contenta per lui figuriamoci comunque mi arriva questa questa invitata prima diciamo andiamo a vedere che cos'è questo esorcismo l'ultimo atto l'esorcismo ultimo atto che non è non ha nulla a che fare con l'esorcista del papa benissimo l'argomento è comunque sempre quello possessione demoniaca l'ambientazione completamente diversa il protagonista è un attore interpretato appunto da rassel crow tale anthony miller un attore in declino che è reduce da un periodo in cui sua moglie è morta a causa delle di un cancro e questo e altre diciamo problematiche lo hanno portato ad avere una forte dipendenza dall'alcol dalle droghe e quindi è stato in riabilitazione sta tentando di risalire la china in tutto ciò ha una figlia adolescente che va in una scuola privata una sorta di college dal dal quale è stata però cacciata per comportamenti ribelli e che lui si ritrova nuovamente in casa dopo questa cacciata per un periodo di diciamo di pausa di questa ragazza benissimo gli viene offerto un ruolo all'interno di un film anzi in realtà lui fa il provino per questo ruolo perché l'attore precedente ha avuto un è morto sul set ha avuto un incidente sul set qual è questo film questo film è una sorta di remake esatto di remake dell'esorcista quindi non viene nominato come film però si capisce che è quello e diciamo quasi praticamente tutto il film quasi è ambientato sul set di questo film quindi c'è un discorso meta no il film nel film il remake esatto il problemi con l'alcol esatto esatto quindi diciamo che in realtà come partenza poteva anche avere un senso io ho letto alcune recensioni adesso stavo leggendo in giro poteva essere un'occasione per parlare un po di questa fissazione che si ha del remake del remake in campo horror e creare un po una sorta di discorso critico no riuscire a fare una cosa bene non l'hanno fatto non ci sono riusciti il regista di questo film nella non il regista vero il regista del film dentro il film è un personaggio anche abbastanza sgradevole uno che cerca di tirare fuori da da russell crow quindi da anthony miller tutta una una verba nell'interpretare questo prete esorcista facendo leva su sul suo passato quindi diciamo spronandolo ma in realtà insultandolo dicendo ma allora al vero che sei che sei un drogato cioè gli dice le peggiori cose perché perché russell crow ottiene quella parte ma mentre fanno diciamo mentre girano le scene lui non riesce a recitare recentemente cioè diventa sempre peggio perché perché lo scopriamo poi durante quasi subito durante il film lui ha avuto una una vicinanza stretta con questa entità che diciamo come si dice quando sa oddio che infesta il set a un'entità è che è che è la stessa che evidentemente ha eliminato il primo attore ok quindi diciamo c'è un set infestato un set infestato demoniaco e non a caso questo set è un remake dell'esorcista ora il senso di questa storia poteva essere diciamo declinato in vari modi poteva trattarsi in una storia in cui si parla del criticamente del dei remake si poteva invece insistere pesantemente sulla su sui nuovi modi di mostrare l'horror quindi sugli effetti speciali no si è passato un po di tempo dall'esorcista vediamo che cosa siete in grado di fare adesso vediamo se siete più convince ancora più convincenti nonostante esorcista sia meraviglioso anche essendo d'epoca si poteva e in parte ci hanno provato lavorare un po sul sull'emotività del personaggio il punto qual è che tu empatizzi con quest'uomo che non riesce a fare pace con se stesso col suo senso di colpa col fatto di aver diciamo abbandonato la moglie morente per darsi all'alcol in un momento in cui appunto la donna stava morendo e la figlia veniva un po lasciata sola quindi c'è sempre il solido discorso della della senso di colpa no personale sul quale lavora il demonio cioè perché il demonio che fa ti rinfaccia i tuoi fallimenti questo è un po il senso no ogni volta che c'è un film con una possessione demoniaca arriva sempre il punto in cui il demonio ti dice ah perché sei tu che hai lasciato tua madre da sola a morire ah perché sei tu che ti sei nel caso dei sacerdoti eh hai avuto una relazione con quella ragazza ah perché sei tu quindi quello che fa il demonio è rinfacciarti i tuoi peccati fondamentalmente per farti sentire in colpa e per farti indebolire come il patriarcato sì un pochino e vabbè insomma fatto sa che tutte queste occasioni purtroppo nel nella mia sensazione sono andate perdute perché è un film che eh rimane molto sulla superficie eh sì devo dire che Russell Crowe è anche bravo cioè è bravo a fare in fondo un po se stesso cioè l'attore che ha vissuto il declino e che tenta di risalire l'attore che combatte con una fisicità avanzata l'attore che deve lavorare eh facendo un personaggio c'è anche un un prete che dovrebbe essere il consulente diciamo ecclesiastico no perché comunque si tratta di esorcismi che è un personaggio che non ha assolutamente nessun tipo di cioè pur avendo poi un ruolo anche importante non non ha nessun tipo di profondità sta là così appeso io mi sono aspettata per tutto il film che facesse qualcosa di veramente importante ma in realtà non ha fatto nulla c'è questa figlia adolescente che non riesco a collocare da nessuna parte eh dovrebbe essere la figlia di belle ma è anche comunque affezionata al padre eh ma ha anche dei rancori nei confronti di questo padre che ovviamente è rimasto in vita nonostante tutti i suoi difetti mentre la madre che è sempre il simbolo di perfezione amorosa è morta quindi c'è un po' questo questo rancore ci sono tutta una serie di topoi che non vengono secondo me eh approfonditi in nessun modo si poteva giocare molto sul set loro hanno eh molto diciamo utilizzato questa cosa del set gran parte del film è in questa casa che in realtà è eh spaccata a metà nel senso che tu vedi eh le stanze di questa casa eh che sono ricostruite però non so come spiegarla questa cosa c'è una sezione di casa ecco come le bambole la casa delle bambole tu guardi dentro ecco e quindi loro si spostano in questa casa che poteva essere anche carino hanno ricostruito anche quella che viene definita la stanza del freddo che sarebbe praticamente la stanza dove poi avviene l'esorcismo se vi ricordate anche nell'esorcista vabbè quello che succede quando ci sono entità demoniache o di fantasmi crolla la temperatura esatto di solito crolla la temperatura e questo è per far per dare l'idea di questo e anche per dare l'idea del fiato caldo che esce dalle bocche degli degli attori loro hanno creato questa stanza del freddo cosa letteralmente creata da sì per l'esorcista esatto che voglio dire poteva anche essere un discorso interessante no che ricrei alcune dinamiche però io non sono riusciti ad andare a fondo su questa cosa e quindi rimangono molto sulla superficie quello che ne esce è un secondo me un horror decisamente mediocre sotto vari punti di vista cioè sia sulla resa della parte effettivamente horror che non fa paura manco per sbaglio secondo me sia sulla parte emotiva che si regge un po tutta su rassel crow che però voglio di sempre rassel cioè fa quello che può insomma ma relativamente la parte di trama praticamente la capisci al minuto dieci ok non lo so sorprese poche sì forse un po di sorprese sul passato di dell'attore rassel non dell'attore del di anthony miller legati un po alla chiesa sì però anche quello c'è sempre no cioè se io ti dico che lui è stato un chierichetto no non è vero non è stato un chierichetto però frequentato la chiesa ok quando era giovane che cosa ti viene in mente ho capito hai capito ma da quando lo capisci da appena lo dice cioè non è che c'è questa grande voglio la scoperta del secolo ma visto che tu hai detto che la trama si scopre al minuto dieci devo dire che il minutaggio completo è di 93 minuti è vero è vero e questa è una delle cose buone assolutamente però è anche vero che poi ti lascia cioè è un tempo mal utilizzato c'è una lunga sequenza finale che è la sequenza risolutiva che è poi effettivamente quella dell'esorcismo no che è quella che ci deve essere in un film sugli esorcismi ci devono essere lunghe sequenze di esorcismi ci sta però non fa neanche paura questa questa sequenza di esorcismo cioè non mi non mi dice niente fa molta più paura la sequenza di esorcismo fatta nel film originale di fricchi no fricchi che è del settà se lo trovo subito intanto voglio dire molto più credibile nonostante fossimo in un'altra epoca il vado a vedere che chi è il regista ma anche sceneggiatore del di questo film l'esorcismo ultimo atto quindi era proprio una cosa finale un movimento finale di una storia joshua john miller è alla sua seconda prova da regia la prima è di mao chi the mao game 1999 vedo low budget scusa da the mao a 99 2023 sì perché nel mentre ha principalmente fatto l'attore e lo sceneggiatore il l'altro sceneggiatore è ma 14 che sempre appunto della grandi produzioni the final girls vedo del 2015 non non vedo tantissimissimissimi lavori no noti a me perlomeno magari appunto sto parlando di un maestro del genere però appunto c'è grande discrepanza grande distanza tra il tra un lavoro e l'altro vi leggo al volissimo un pezzettino di una recensione che di questo film sullega nerd perché secondo me raccoglie un po quello che che vi ho detto probabilmente in maniera forse più efficace rifletti un film che ovviamente riflette sul trauma che il trauma come vi ho detto è spesso un potenziale veicoli per i demoni e per le possessioni no cioè lavorano su un trauma l'esorcismo ultimo atto prova a riflettere sulla fede in cui protagonisti per vari motivi hanno smesso di credere vabbè la fede in cui credi la fede che hai vabbè peccato lo faccio anche in questo caso malamente senza approfondire veramente le motivazioni e le sue implicazioni sulla psico mana degli adulti anche la messa in scena lascia per pressi con pochissime sequenze realmente horror che aumentano solamente nell'ultimo atto e che oltre a riprendere stilemi visti e rivisti lo fanno in modo poco convincente e stanco lo stesso accade alla recitazione degli interpreti che soprattutto nel rapporto parla e figlia non riesce a coinvolgere come dovrebbe cioè voglio dire lì il punto sta anche nell'emotività vuoi non essere troppo esagerato sulle scene horror però almeno approfondisci i miei personaggi non mi pare che abbia funzionato l'esorcista di william fripkin che a questo punto è e mantiene la testa del del campionato esorcismi al cinema ma ce ne sono anche di film belli sugli esorcismi ovviamente non ve li dirò perché non me li ricordo mi ricordo i nomi però sicuramente insomma questo non è da nomerare da quelli ma a proposito di metalinguaggio dato che c'è un set infestato poi hanno usato il li hanno chiamati forse sarebbe stato un bel colpo di scena finale non so ma loro lavorano sulle possessioni demoniache perché qui non si rilatta di sono tutti posseduti da però da fantasmi vabbè però sì forrebbe starci sì non mi sembrano sempre pacificissimi i fantasmi degli a capa fantasmi a capa fantasmi